Ciao a tutti da Cris24 Ita Votetevi il gameplay di Black Ops Call of Duty Black Ops Votate il video e iscrivetevi Ciao E tu che cazzo sei? Non è importante Quello che importa è chi sei tu Come ti chiami? Dove sei nato? Baciami il culo Il tuo nome è Alex Mason Sei nato a Fairbanks in Alaska Nel 1961 hai fatto parte di una squadra di assassini della CIA Conosciuta come Operazione 40 Giusto? È giusto o no? Sì Dov'è la stazione radio? Non so di cosa stai parlando I numeri Mason Cosa significano? Da dove li trasmettano? Non so niente di nessun numero E Drakovich? Lui te lo ricordi? Dici quello che vogliamo e non ti succederà nulla Cominciamo dall'inizio Cuba 1961 61, la paia dei porci Sappiamo che eri lì No Non prendermi per il culo Mason Lo capisco quando menti 61, paia dei porci Che è successo? Ci hanno sterminati È inutile mentire Mason Sappiamo che sei andato lì con Wulz e Boma Wulz Oman Drakovich Ti ricordi di Drakovich? Castro Eravamo lì per ucciderlo. Eravamo lì per ucciderlo. Eravamo lì per ucciderlo. Eravamo lì per ucciderlo. bene è tutto pronto mi dispiace per il bar non c'è problema ci liberiamo noi dei cadaveri scendono dai veicoli hanno i fucili a pompa bowman carlos pensate al fuoco di copertura combatteremo per le strade meso con me andiamo fateli fuori avanzate lungo la strada bowman ma a destra ricevuto ma che cazzo di problema ai morto forza muoviamoci necessitiamo un refuerzo nemico a terra dietro di noi ok andiamo e qua nel micro aggiungiamo l'auto merda sono troppi bowman coprici le spalle colpito via togliti di mezzo cazzo togliti di mezzo cazzo merda necessitiamo si aiuta un posto di blocco lo vedo distruggilo meso se ne sta andando meson sei sfuggito alla milizia invasione della vaia dei porci era iniziata e ridiretto al complesso di castro lo stiamo perdendo non abbiamo scelta un'altra volta ma che cazzo ecco il complesso ecco il complesso i uomini di carlos attaccheranno l'aeroporto da un momento all'altro ecco il segnale ora agganciarsi ci siamo e confinato 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 aggondendo la posizione hasta che llegue il refuerzo refito meson fallo fuori refito registrato che sta asciendolo registrato perfetto sono concentrati sull'aeroporto con voglio davanti a noi non attaccatelo affinativo affinativo fermi lasciamoli passare fermi lasciamoli passare boom fiacco sinistro muoversi si attivativo buon ojo ahi estan buon ojo ahi estan ahi estan ahi estan fuori fuori morto ahi è data sbrigati di qua su per le scale d'accordo castro è paranoico e ha ragione sono tre anni che cerchiamo di arrivare a lui oggi finalmente ce la faremo ahi estan affinativo buen ojo rimanete vicini ahi estan te escucho ricevuto datemi fuoco di copertura buen ojo no miro buen ojo sienta ombra abajo ahi estan ricevuto ahi ahi estan ahi estan ahi estan ahi estan Buon ojo, con ombre a bajo Confirmato Dentro, ora Affirmativo Oman, sul tento Se ci sono guai fa un fischio D'accordo Mason, seguimi Cerchiamo in tutte le stanze Finché non troviamo cazzo Ombre da nello Te scuso Convipato All'està Vieni a posto quell'arma Affirmativo Ombra a bajo È morto Lo miro Lo miro Gugno Preso All'està All'està Ma che cazzo di problema Ma che cazzo Che succede? I B-26 Stanno bombardando dappertutto Fermi Tra cinque minuti è finita Il bersaglio deve essere più avanti Dicevuto Ombre da nello All'està 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 Si ha pegato Prepariamoci Prepariamoci Non c'è tempo da perdere Andiamo Confirmato Ma che c'è tempo Ma che c'è tempo Il nido è vuoto Proseguiamo Fate in fretta I B-26 Stanno per iniziare a bombardare Il bersaglio deve essere più avanti Dicevuto Movimento all'interno Prendere posizione Mason di qua Ci siamo Pronti a entrare nella storia Andiamo Ma è pazza Poi lo usa come scudo umano E lei lo protegge I sostenitori di Castro sono fanatici Lo dorano come un dio Bowman Il bersaglio è a terra Carlos non ha buone notizie Resistono a malapena Hanno addosso metà dell'esercito cubano E quei B-26 non colpiscono nulla Raggiungo il corridoio principale Ok, arriviamo È morto Muoverci Bowman Va a destra Dicevuto È entrato È un pegato Confirmato Certo Nemico a terra Pagare Versaglio eliminato Medico Oversi Vista Affirmativo Contatto vicino alla colonna Domino E a terra Ma che cazzo di problema hai All'està Registrato Contra l'alto Nemico a terra Andiamocene prima che quei cazzo di aerei ci facciano saltare in aria Movimento di cazzo